Perché riaprire una sala cinematografica solo come sala c'è rischio di chiusura immediata, invece riaprirla con una purivalenza, una multifunzionalità, può avere veramente di interessi sia sulla città che proprio sul cinema. Riapriranno le sale storiche. Speriamo, io penso che ci sia lo spazio nei centri storici delle città per le sale cinematografici, ci deve essere lo spazio, sia perché questo è indispensabile per i film, per il cinema, sia perché è indispensabile per la vita dei cittadini. Il problema è far tornare alla gente nei cinema in generale, quindi anche nei cinema che non stanno sotto casa, quelli dove magari quando piove ti devi mettere le calosce e devi pensare a prendere un mezzo pubblico o una corriera, perché c'è il film che non devi perdere, ci si tratta in qualche modo anche di tornare a... il film che non ci si tratta in una scene. Speriamo! Speriamo! Grazie a tutti